Fratelli d'Italia e la sua relazione con il fascismo, un'analisi critica. Fratelli d'Italia è un partito politico italiano che ha guadagnato visibilità negli ultimi anni. Tuttavia, la sua relazione con il fascismo e l'eredità di Mussolini ha suscitato dibattiti e controversie. In questo articolo, esamineremo in modo critico il legame tra Fratelli d'Italia e il fascismo, esplorando le posizioni del partito e la reazione della società civile. Origini del partito, Fratelli d'Italia è stato fondato nel 2012 come un partito di centrodestra che promuove i valori nazionalisti e conservatori. I suoi fondatori, tra cui Giorgia Meloni, hanno una formazione politica che affonda le radici nell'ex movimento sociale italiano MSI, un partito di estrema destra che è stato collegato al fascismo. Riferimenti e simboli, un elemento che ha alimentato il dibattito sulla relazione tra Fratelli d'Italia e il fascismo sono i riferimenti e i simboli utilizzati dal partito. L'uso della parola e fratelli e nel nome stesso richiama il saluto fascista e Fratelli d'Italia, Italia sedesta è usato durante il regime di Mussolini. Inoltre, alcuni membri del partito hanno espresso aperto apprezzamento per Mussolini, considerandolo un patriota. Politiche e posizioni. Dal punto di vista delle politiche, Fratelli d'Italia si presenta come un partito conservatore che difende la sovranità nazionale, l'identità italiana e i valori tradizionali. Tuttavia, alcune delle posizioni espresse dal partito, come la critica all'immigrazione e il nazionalismo spinto, hanno sollevato preoccupazioni sulla simpatia per l'ideologia fascista. Reazioni e critiche. La relazione di Fratelli d'Italia con il fascismo ha suscitato reazioni diverse all'interno della società italiana. Molti critici accusano il partito di essere un veicolo per un'agenda politica nostalgica verso il fascismo, mettendo in dubbio il suo impegno per i principi democratici e i diritti umani. Allo stesso tempo, i sostenitori del partito respingono queste accuse e sostengono di essere solo un movimento patriottico. La responsabilità politica. È importante notare che il fascismo rappresenta una parte dolorosa della storia italiana, con gravi violazioni dei diritti umani e repressione politica. Qualunque sia la posizione di Fratelli d'Italia, il partito ha la responsabilità di dissociarsi chiaramente da qualsiasi forma di totalitarismo o ideologia antidemocratica e di promuovere valori di tolleranza, inclusione e rispetto dei diritti umani. Conclusioni. La relazione tra Fratelli d'Italia e il fascismo è un argomento complesso e controverso. Mentre alcuni osservatori evidenziano similitudini tra le posizioni del partito e l'ideologia fascista, altri sostengono che il partito debba essere valutato in base alle sue politiche attuali. Tuttavia, è fondamentale che Fratelli d'Italia si impegni in modo chiaro a difendere i principi democratici e a respingere ogni forma di totalitarismo. La società civile, nel frattempo, deve continuare a monitorare attentamente le azioni e le posizioni del partito e a promuovere un dibattito aperto sul passato e sul futuro dell'Italia.